Io voglio aiutarti, se ti trovi in una situazione difficile e non riesci a rialzarti, sei nel posto giusto. Non pretendo che tu mi creda, ma applicando le strategie e le tecniche, le stesse utilizzate da me per uscire dalle mie paure, bene, tu trasformerai la tua vita, perché io ti aiuterò ad aiutarti e sarai più deciso, più sicuro di te, bene, riuscirai a rialzarti e ritroverai una tranquillità mai provata prima d'ora. Diciamo, persona che si è sottoposta ad alcuni dei suoi trattamenti, mi sono trovato estremamente bene, perché ho avuto i momenti un po' difficili della mia vita, un motivo di apprezzare molto questo relax, che con le sue tecniche Rosalia riesce a dare e a comunicare a chi le riceve.